Questa è il mio primo vestitino. Amore mio. Amore mio, come stai? Bene, bene, benissimo. Che dici, questa esperienza ti piace, ti stai divertendo? Sì, hai voglia. Tira fuori tutto quello che sei tu. Certo, questo come sempre. Hai capito? Sì, sì. Mi manchi tantissimo, amore mio. Anche voi mi mancate tutti quanti, veramente. Mi raccomando, eh? Sì, non vi deluderò. Fai tutto quello che hai dentro.